Sono venuta qui per presentare una mappa interattiva di tutto il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna, un progetto che è nato per gestire l'emergenza del sisma e pian piano è diventato un sito aperto a tutti i cittadini e i tecnici che vogliono conoscere cosa c'è di interessante dal punto di vista dei beni culturali attorno a loro. Uno strumento quindi che pian piano si è arricchito di foto, immagini, informazioni e in futuro anche orari d'apertura che collabora in formati open e con software open source con i vari sistemi regionali per dare un'informazione sempre più ricca e il nostro sito è www.patrimonioculturale-er.it e lì trovate anche tutti i modi di contattarci e di chiederci qualche cosa di più.